Uè ragazzini, buonasera ragazzini, sono le 8 e 10 e praticamente tra un paio d'ore si va a lavorare a me mentre la signorina che è stato il divano, si che si sta girando mo, ha 4 giorni di pubertà come devi bestemmiare questo gioco? no 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 e niente domani è 24 la vigilia ci stiamo preparando per passare il nostro primo natale qui nel Baden di Wurttemberg non faremo niente di speciale, saremo a casa con mio cognato, mia cognata, la madre e il fratello di mio cognato poi mentre giorno 1 gennaio vengono tutti i parenti di Lucia e lì saremo in tanti e mangeremo tanto però poi vedremo cosa succederà ho dormito oggi, ora sto venendo qui alla televisione come si chiama questo? non il banco dei pugni come si chiama questo programma? il banco dei pugni no affari in famiglia affari in famiglia qua affari in famiglia tipo banco dei pegni eeeh niente questi giorni al lavoro sono veramente tremendi e la settimana prossima saranno ancora più tremendi perchè scenderò alle 7 di sede beh vabbò dai per la sicurezza mamma spiegaci che cos'è il turdaken tacchino, alatre e pollo con dentro un ripieno e Mike Moser è qui da questo il turdaken sono 100 e la gente spesso che mi chiedono ma è un turdaken ma no è un turdaken ma è un turdaken ma è un turdaken prima cosa la carne viene riscaldata in sostanza si può fare a un'attività sciolata dell'estero e una volta raggiunta alla giusta temperatura le carni possono andare incontro al loro pizarro destino il procedimento inizia con il tacchino io faccio il turdaken saluti amo 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 no 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 risveglio all'uovo no 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 l'uomo delle nevi aspettate ve lo faccio vedere meglio aspetta l'uomo delle nevi l'uomo delle nevi il cappello della backhouse non si vede le nevi l'uomo delle nevi aspetta No, è al contrario, sarà meglio prima. Si fermi. E si va al lavoro. Oggi è 24. Ancora 23. E passano la visita. Tutto è l'ovvio. Lui se ne va al lavoro e io ne va dritto a Ninna. C'è chi lavora. C'è chi va a sguatterare. C'è chi porta il pane a casa. E basta, non si gioca proprio. La settimana prossima andrò pure io a lavorare. E basta. Alle 11 di sera. Sono stanco, ragazzi. Ragazzi, mi sono appoggiato alla sole di panno. Volendo vedere la televisione. A un certo punto... E poi mi ha fatto lo scherzetto. Quanto è l'ovvio. Quanto è l'ovvio. Vabbè, cosa devi dire ai nostri amici. Niente, che il video termina qua ragazzi. E il video finisce qua. No, ma com'è mezzo a fosco. Sei vero, vedi a Luzia. Che capelli, ogni cinquanto pro. Penso per te. Noi siamo i giovani. I giovani. I giovani. I giovani. Siamo l'esercito. L'esercito del backhouse, ma... A me piace lavorare al backhouse. La sa che sto dicendo... E come dice lo chef. E come dice lo chef. Elf. 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 Ma perché hanno la lingua età? Solo lui, non gli altri no. Tutti sulla destra la puntano. No, lui se la signora. Pure Sabrina fa. Ehm. 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 Wipi. No. Si. Sulla sinistra. No, sulla destra. Ehm. Vedi? Va. Vabbè ragazzi. Il video termina qui. Iscrivetevi, comment... Oh. Sto dando un messaggio importante agli amici. Si, ma stai facendo dire anche lì. Il video termina qui. Iscrivetevi, commentate, condividete, mettete un bellissimo piacere. Lasciate un commento felice. Buon Natale a tutti. No, il buon Natale ve lo do domani dai. E certo, domani. Uff. E poi come si dice? Ehm. Happy Holidays. Ehm. For... Boonerick. Boonerick. Ho been asked. nachzo. Boonerick. Cosa ragazzi, per imparare questa frase qua, cioè, due parole... Ha messo anni e anni. Due parole. Una settimana che mi sto esercitando che sto vedendo sul... credimi veramente. bigئso di maionese, infatti. Infatti, veramente, che ten�� della foggine. esasantità. Mi dueata magro steche di serenco. Ehm. Ehm. Ehm anch' Shore��avia. ma che mano? ma che hai fatto? mamma mia ho mano dalla varatrice perchè questa mano può essere vera e può essere piuma oggi è piuma ma domani può essere vero potrebbe essere ragazzi vi dovete rimanere qui scrivete, commentate, condividete se come sembra leggete bene il foglio di illustrativo uguale non si sa e niente io pensavo che sotto l'albero dovessi trovare la PS FIA ehi FIA ora ti prendo e guardo la mano ora andiamo in Germania e iniziamo a lavorare poi ti compro la PS FIA con tutti i giochi allegati e così poi ci compriamo anche gli occhialini 3D ci giochiamo, guardiamo facciamo, ridiamo, scherziamo ci mettiamo tutto il divano nudi no non di no e poi giochi mi ha detto torna alla PS3 barbone ma ragazzi ciao ragazzi buonanotte mi dai abbiamo usato lì grazie grazie